Buonasera a tutti, il brano che stasera vi farò ascoltare è un brano che per me è molto importante. Il titolo è Quel posto che non c'è, è un po' quel posto che per me ognuno di noi ha in fondo il proprio cuore ed è anche quel posto in cui ogni sera prima di andare a dormire ci lasciano i nostri sorrisi e speriamo veramente con tutto il cuore che il giorno che verrà sia sempre meglio di quello lì. Grazie. 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 Grazie.